Tuona nelle aule del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro la sentenza dei giudici che annullano il concorso per il profilo di autista del 118 indetto dall'ASP di Vibo Valencia. Un encomio e ringraziamento da parte di tutta la graduatoria va all'operato dell'Avvocato Pitaro che ha strutturato un ricorso impeccabile e insindacabile. Esultano tutti gli doni in graduatoria perché con oggi si crea un precedente importantissimo e viene scritta una nuova pagina di storia dove la giustizia finalmente trionfa donando a chi merita la giusta dignità. Il prossimo passo sarà quello di diffidare immediatamente tutte le restanti ASP e invitarle ad attingere immediatamente alla graduatoria. Poi in settimana gli autisti del 118 incontreranno il generale Cotticelli, commissario della Sanità calabrese e in contemporanea il procuratore Gratteri ai quali verranno consegnati due faldoni di documenti nei quali si evincono alcuni atteggiamenti poco chiari di alcune ASP. Siamo certi che saranno attenzionati in modo scrupoloso e attento.